Buonasera a tutti, scusate l'assenza però in questi giorni non stavo per niente bene come morale quindi non mi sembrava il caso a parte quello nulla mi sono lavati i capelli verso le 5 perché poi ho dormito un po' perché non so sta e niente, a parte il fatto di quello nulla e non ho fatto anche oggi soltanto il fatto che forse mi sono liberata del disturbo della Buddha Line almeno spero di averlo superato quel problema perché per andare a vivere da sola non posso vivere là quindi a parte quello nulla io adesso mi sono andato a registrare un attimo qua che intanto vi faccio vedere il mio apparecchio ascoltate che ci riesco ho messo un quintale di sapone che mi è caduto stamattina dovete sapere sì, ho la luce qua sopra che adesso poi vi farò vedere ma questo l'avevo fatta vedere, ho mai conosciuto benissimo bocca mia anzi facciamo a casa dei miei genitori perché in realtà non abito qua meno male che spero che un giorno vado a vivere da sola così almeno potrò decidere cosa fare e cosa non fare a parte quello nulla io vi saluto a parte il fatto che adesso mi laverò un po' i denti così almeno sono già pronta per andare a dormire anche perché domani scuola io detesto lunedì vabbè a parte quello nulla io vi saluto ci vediamo in questi giorni con i prossimi vlog scusate l'assenza ma moralmente sono a pezzi ve lo dico sono sempre stata a pezzi ma in questi periodi lo sono un po' di più quindi perdonate l'assenza e niente io vi saluto ci vediamo in questi giorni con i prossimi vlog ciao oddimiti scappo se no mamma mi iscrita